buongiorno vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo arriete gli avvenimenti quotidiani di oggi potrebbero convincervi che qualcosa si sta muovendo sul vostro futuro toro la persona che vi sta a cuore vi sembrerà imbronciata ma non è il caso di indagare passerà gemelli avete bisogno di staccare la spina dalla routine di coppia prendetevi una pausa per riflettere cancro fate tutto sempre con buon senso e con razionalità leone c'è bisogno di una breve ma efficace riflessione su ciò che state facendo vergine occorre tutta la vostra attenzione e ogni sforzo per cogliere il risultato che vi sta a cuore bilancia in amore momenti di confusione una persona del toro sarà importante scorpione complicazioni in famiglia e tra colleghi a causa di mercurio che si oppone soprattutto nel pomeriggio sagittario molte persone vi prenderanno seriamente in considerazione e potreste trovare una nuova armonia capricorno avrete a che fare con persone che non vedete da tempo e con i quali i rapporti si sono abbastanza diradati acquario da oggi potreste assaporare l'inizio della rivincita sulla vita pesci è ancora un periodo di incertezze dovete tirare fuori tutto il vostro coraggio questo è tutto a domani con il prossimo appuntamento dell'oroscopo grazie a tutti Grazie a tutti.